Allora, coach Cominetti, domenica esardio in campionato contro una neopromossa, gioia del Colle. Sì, è una neopromossa ma con tutti i giocatori che in pratica il campionato l'hanno vissuto più di una volta in Serie A, perciò è sicuramente una partita tosta nonostante la squadra ha fatto la promozione della Serie A2. Incontreremo giocatori come Cettrullo, come Marchiani, giocatori che hanno giocato assieme nella Reggio Emilia due anni fa e di conseguenza hanno anche un buon affiatamento e questo non è poco per le squadre nuove. Noi di nostro dobbiamo assolutamente pensare che avendo cambiato molto dobbiamo cercare di stare molto attenti a quello che è il nostro gioco principalmente. Quali sono i punti di forza degli avversari e quali invece saranno i punti deboli da sfruttare per i nostri giocatori? Loro hanno principalmente un gioco molto veloce e di conseguenza questo gioco veloce si esprime se c'è una buona ricezione. Diciamo che il palleggiatore nonostante anche situazioni magari difficili riesce ad esprimersi comunque abbastanza veloce ma per noi sarà fondamentale avere un buon servizio per rendere più difficile la loro fase cambio palla. Questo è principalmente l'obiettivo iniziale della partita. Poi a secondo di quello che si svilupperà nel gioco noi cercheremo di portare i nostri cambiamenti. Però la caratteristica di questa squadra è proprio questa.